Benvenuti. Oggi è mercoledì, 9 ottobre 2024, e ho preparato per voi delle previsioni astrologiche davvero uniche. Scoprite cosa hanno in serbo le stelle e ricordatevi di iscrivervi per non perdere nessun aggiornamento. Ariete. Cari Ariete, nel corso di queste ore c'è un po' di tensione, ma niente che non si possa risolvere con una buona dose di pazienza e dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, le cose sembrano procedere lentamente, ma non abbattetevi, presto raccoglierete i frutti del vostro impegno. La luna in sagittario vi ravviva, vi scopre allegri e pronti a immergervi entusiasticamente nel quotidiano. Si rileva giusto qualche piccolissimo contrattempo se siete nati nella terza decade, ma niente di serio. Anche se in toppi passeggeri potranno infatti creare un lieve nervosismo, uno stato d'animo fiducioso vi predisporrà generosamente a organizzare e condividere con familiari e amici un'atmosfera di letizia. Fase distensiva invece per quanto riguarda il fitness, giove in gemelli favorisce una forma fisica al massimo delle vostre possibilità. È necessario, però non chiedere troppo alle proprie energie, specie se siete nati nella terza decade e ripiegare su attività sportive soft. Mercoledì frizzante, con la luna focosa in sagittario intrigono al vostro segno. Amicizia anche dal suo dirimpettaio giove, entrambi mediatori nei confronti della coppia sole-mercurio nel segno opposto e attrattivo della bilancia. Nessun problema con Marte in quadratura, Venere Miciona lo tiene a bada, sussurrandogli segrete parole d'amore che lo terranno calmo almeno nei vostri confronti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Toro. Cari toro, giornata favorevole per i sentimenti, chi è in coppia sentirà una forte connessione con il partner e i single potrebbero fare incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, avete l'opportunità di riprendere in mano progetti lasciati in sospeso. Il cielo di pieno autunno vi invita oggi a non abusare delle vostre energie, se siete della seconda decade, avete Venere che, dallo Scorpione, vi contrasta. Abbandonatevi alle attività sportive e agli esercizi fisici con moderazione. Urano aumenta il guizzo delle idee brillanti, la volontà di muovervi, agire, fare. Potreste essere invogliati a chiedere moltissimo al destino, cercate tuttavia di moderare i vostri desideri e provate a vedere quel che di concreto e di insperato si è già realizzato per voi. Nettuno molto bello promette un'agilità mentale che vi rende più vivaci del solito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Gemelli. Cari gemelli, cercate di evitare polemiche inutili, i malintesi potrebbero causare tensioni nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, siate più concentrati, qualche piccolo intoppo potrebbe rallentare i vostri progetti, ma nulla di insormontabile. Mantenete la calma. Freschezza, ironia, motti di spirito, saranno questi gli ingredienti essenziali della vostra simpatia, in questa giornata di inizio ottobre. Giove pienamente nel vostro segno vi fa invitati e corteggiati in diverse occasioni, come compleanni di amici e parenti, feste e ricevimenti. Il team Saturno, Luna, Nettuno contrario dal segno dei pesci e dalla Vergine propone cambiamenti non sempre desiderati che si sono affacciati all'orizzonte. Urano dal segno amico fidato del toro continua tuttavia a sostenervi e vi infonde fermezza di polso e rapidità d'azione in ogni cosa che fate. Riguardo al fitness per la seconda e terza decade è consigliabile riguardarsi dai mali di stagione che, in questa fase, potrebbero riaffacciarsi. Pagellina del giorno Sentimenti, 9, Attività, 9, Finanze, 6, Beneessere, 7 Cancro Cari cancro, l'amore nel corso della giornata di oggi sarà protagonista, con momenti di forte intesa e passione. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite particolarmente motivati e creativi. Approfittate di questa energia per portare avanti i vostri progetti con determinazione. La dimensione affettivo, familiare vi sostiene, aiutandovi a gestire circostanze non sempre facili in ambito pratico, economico, professionale. E nitido per voi è il cielo in questa giornata di metà autunno, con pianeti che illuminano il vostro cammino in modo deciso e favorevole, come il sole, Nettuno, Venere e Saturno, tutti in segni d'acqua, percettivi e intuitivi, vostri fidati alleati. Ottimi i consigli che proverranno da parenti affettuosi e amicizie fidate. È necessario che il vostro fisico si ritempri dopo le fatiche recenti che alcuni aspetti stressanti vi hanno provocato. Prediligete le attività più morbide come l'aerobica e lo yoga. Pagellina del giorno Sentimenti, 10, Attività, 8, Finanze, 6, Benessere, 9. Leone Cari leone, potreste sentirvi un po' irritabili, soprattutto in amore, cercate di evitare discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle sfide da affrontare, riuscirete a superarle. Mantenete la calma e non lasciatevi sopraffare. Si avvicina qualche nuvola in un cielo comunque molto sereno, reso luminoso dalla positività del vostro carattere ottimista e solare. Una luna splendida in Sagittario vi apre navità in ogni campo. In primo piano saranno così le nuove mete da perseguire, gli orizzonti che si aprono davanti a voi, ponendovi di fronte a nuove sfide, spesso appassionanti. Chi appartiene alla seconda decade può dirsi baciato dalla buona sorte. Freschi e scattanti, potete misurarvi sia in discipline sportive tradizionali che in attività recreative anticonvenzionali, come la biodanza e aerobica. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, la giornata di oggi scorrerà tranquilla, con momenti piacevoli da condividere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per proporre nuove idee, la vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere delle gratificazioni. Progetto dei transiti discreto in questa bella fase di autunno che vi conduce in direzione di un accrescimento del vostro benessere fisico, mentale, spirituale. Venere dal segno dello scorpione vi invia un influsso di salutare gioia di vivere, ne risente al meglio la facoltà di comunicazione con il mondo circostante insieme alla capacità di interagire, di essere capiti dalle persone che più vi stanno a cuore. Per quanto riguarda il fitness siete dei veri specialisti nel tenervi in ottima forma, ora però con la luna in sagittario contraria, potreste ricadere in un eccesso di zelo ed esagerare in diete stravaganti e in attività fisiche che vi fanno molto faticare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 9, benessere, 6. Bilancia. Cari bilancia, cercate di non essere troppo esigenti con il partner, soprattutto in questo periodo di stress. Per quanto riguarda il lavoro, le cose stanno andando meglio, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Continuate a lavorare con impegno. Momento di ottobre in cui un disturbante Plutone in Capricorno stimola cambiamenti che coinvolgono, oltre alla dimensione lavorativa anche quella emotiva e familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella bilancina terza decade. Per quanto riguarda l'efficienza fisica, anche il pianeta dello sport, della muscolatura e dell'attività agonistica, Marte, continua a non esservi alleato, quindi dosate bene le energie da spendere in palestra. In sintesi, l'indicazione astrologica manifosta aspetti che sembrano neutralizzarsi a vicenda, come risultato non ci sono grandi entusiasmi e il quotidiano tutto sommato scorre tranquillo. Mercurio vi garantisce una penuta della razionalità per voi tanto fondamentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 9, benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, l'amore vi regalerà momenti di grande emozione e serenità. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di grande forza e determinazione, le stelle vi favoriscono. Sarete sostenuti dalla vostra notevole sicurezza in voi stessi oggi, con Marte e Plutone ben messi col vostro segno. Questa sicurezza è assicurata pure dall'appoggio di Saturno, specie se appartenete alla seconda decade scorpionica, riuscirete a neutralizzare alcuni screzzi che ancora potrebbero insorgere nel quotidiano, ritornando a una serena normalità. Vi preparate a una fase molto positiva frequentando luoghi in cui il fisico si ritempra. Terme, sauna e bagni rigeneranti sono posti da voi prediletti, Nettuno in ottimo aspetto dal segno del suo domicilio fondamentale, i pesci, favorisce il contatto con le acque. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 8, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, quella di oggi è una giornata positiva, soprattutto per i single, potreste fare un incontro speciale. Sul lavoro, nuove opportunità si stanno aprendo, ma dovrete essere pronti a coglierle al volo. La fortuna è dalla vostra parte. Dovete reggere in questo periodo autunnale agli influssi negativi di Giove, vostro nome tutelare, che transita nel segno opposto al vostro, quello dei gemelli. Le vostre intuizioni, tanto ben azzeccate, possono non andare a segno come spesso succede, ma non ci sono problemi. Con la freddezza della logica, garantita da uno splendido mercurio, specie se appartenete alla sagittariana seconda decade, riuscirete a risalire all'origine profonda di ogni problema. In serata vi potete abbandonare ai piaceri della buona tavola, da perfetti buon gustai quali voi siete. La luna positiva non vi fa dimenticare il provvidenziale moto che tanto vi rigenera specie se appartenete alla terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, avete bisogno di chiarezza, cercate di affrontare le questioni in sospeso con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non fatevi prendere dall'ansia, le cose stanno andando nella giusta direzione, anche se i risultati sembrano tardare ad arrivare. Una splendida venere transita in un segno vostro amico, lo scorpione e la luna è benefica anche nel segno buon vicino del sagittario. Centrali saranno oggi le tematiche affettive, familiari, legate al clan e le questioni patrimoniali. Sarete coinvolti in feste, ricorrenze con amici e parenti vicini o anche più lontani. Se siete nati nella seconda decade, Saturno Pesci in felice posizione vi fa prendere le giuste decisioni. Attenzione a dare spazio a tutti i componenti della vostra cerchia di affetti. Se vi piace lo sport Plutone vi aiuta negli sport che più vi aggradano, in particolare la corsa e il nuoto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, l'amore è in primo piano, lasciatevi guidare dalle emozioni e non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un momento di grande creatività e intuizione. Un bel gioven gemelli, amici dell'acquario, rappresenta una carica di energia, soprattutto mentale, essenziale e preziosa, per far fronte a tutti gli impegni previsti. E una bella simpatia vi accompagna per tutta questa giornata. I progetti di ampio respiro e specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, sono imminenti, ma richiedono ancora una più ferma elaborazione e una intelligente programmazione. Controllate, però la salute, in quanto sono in arrivo i classici malanni di stagione. Pianeti imbrunciati in scorpione e toro consigliano agli acquario di tutte le tre decadi di riguardarsi. Pagellina del giorno. Sentimenti, nove, attività, otto, finanze, cinque, benessere, otto. Pesci. Cari pesci, le stelle vi sorridono e vi aiutano a superare eventuali difficoltà nella coppia. Se siete single, ci sono buone possibilità di fare un incontro speciale. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra intuizione vi guiderà verso le scelte giuste. Il vostro buon carattere in questa giornata è messo in luce dal transito benefico di Venere Scorpione. Il pianeta del benessere regalerà emozioni nel settore familiare e privato. Gli intoppi non mancheranno, certo, come evidenziano luna e giove negativi per voi, e non si risolveranno del tutto alcune questioni rimaste aperte, ma, il buon umore vi aiuterà a stemperare le eventuali incertezze, procedendo con serena sicurezza nel domani. Concluderete poi questa bella giornata di ottobre protetti da Marte che rende il vostro fisico agile. Se praticate gli sport acquatici potete contare su una giornata in cui i risultati ottenuti saranno corroborati da vibranti energie vitali. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.